e ora il giorno ma certo sono le zappe di un uccello i miei complimenti ragazzo lo sapevo che ce l'avresti fatta ehi guarda bo fuoristrada giocattolo come possiamo riuscire a superare tutti questi fuoristrada in movimento benvenuti nella fabbrica di fuoristrada del rospo i fuoristrada dal distruttore di giocattoli sono stati distrutti perciò la fabbrica sta lavorando velocemente in modo da rifarli tutti la produzione di giocattoli il rospo non vuole rallentare per superarli veloci sopra ogni fuoristrada dovrete saltare oh poverino non essere triste io sono qui per te sono caro perché pensi che nessuno ti ami oh aspetta c'è topolino scommetto che impazzirete per questo cartone ehi spostati per favore babbuina perché questa babbuina non vuole farci passare benvenuti nel parco della babbuina dog sitter adesso la babbuina voi dovete aiutare vedete? lo strambo acconciatore i suoi cani ha voluto acconciare e come rannocchie pazze non fanno altro che saltellare fiocchi e coccarde di dosso si vogliono scrollare i cagnolini acchiapperete se veloci correrete in avanti e poi indietro 1 2 3 4 11 12 13 14 15 16 16 18 19 20 35 16 18 19 19 20 26 18 19 19 19 20 19 23 20 20 20 20 20s 20 20 20 20 20 20 19 20 22 20 20 19 E tutti questi fuoristrada in movimento. Stia tranquilla, non lavorerà nessuno quel giorno, signorina coniglio. Forza, oltrepassiamo la porta dell'armadillo. Coraggio, entriamo, amici. Che altro può fare felice di lei, Farfalù? Magari le piace ballare. Questo deve essere il suo negozio di fiori. Perché non ci lascia passare? Benvenuti nel negozio di fiori della volpe. La volpe sa della creatura dal naso intasato e protegge i suoi fiori perché tutto resti profumato. Non conosce bene l'aspetto della creatura. Allora non fa entrare nessuno sconosciuto per paura. Per superare la volpe e la prossima porta a trovare, vicino a lei silenziosi e a terra dovrete strisciare. Hoppla, hoppla. Forse a di lei Farfalù piace qualcosa lì. Deve piacerle tanto. I rinoceronti ci vengono... Hoppla, hoppla, hoppla. Cicogne. E sono tutte uguali. Le loro uniformi sono identiche. E marciano nello stesso identico modo. Spostatevi, per favore. Come possiamo fare per arrivare alla porta se le cicogne che marciano non ci lasciano passare? Benvenuti sulla nave dei cadetti cicogna. A bordo, ognuno della ciurma fa parte. Sono tutti cadetti, Evo.